Ciao, sono qui per suggerirti la lettura di un libro, di solito sono saggi, in questo caso invece parliamo di un romanzo, parliamo di Amaniti, La vita intima, sicuramente un bel libro, non è un capolavoro ai livelli dei precedenti, che ne so come Dio comanda, ti prendo e ti porto via, ma è sicuramente molto interessante, ma soprattutto lo suggerisco a chi si occupa di tecnologia e si occupa di digitale come me, per cinque motivi. Il primo motivo è una chicca, il social media manager che è uno dei coprotagonisti del libro, che si chiama Il Bruco, richiama evidentemente Morisi e la sua bestia, che detta un po' la, diciamo, la linea comunicativa al premier. Il secondo motivo è ovviamente il fulcro del libro che è il revenge porn, il porno online anche, comunque il ricatto che può derivare da un video improvvidamente registrato. La terza motivazione è sicuramente una bambina di dieci anni che a un certo punto vuole il cellulare, quindi bisogna misurarsi con questo tipo di richiesta, ed è sicuramente parte dei miei corsi che faccio sull'uso consapevole dei digitali nelle scuole. E poi soprattutto si parla in generale di reputazione digitale e poi di fake news e di complottismo. Quindi un bel libro, solito stile frizzante di Amaniti, ma ci sono delle tematiche che appunto per chi si occupa di digitale sono all'ordine del giorno. Quindi buona lettura con La vita intima di Amaniti.